Nei prossimi giorni ci saranno incontri importanti al Ministero per sbloccare la Tibre. Il collegamento autostradale che da Sissa Tre Casali, in provincia di Parma, dovrebbe proseguire fino alla A22 a Nogarole Rocca, in provincia di Verona. La conferma arriva dal Ministro Salvini, oggi a Cremona. Stiamo andando avanti sul dossier Cremona-Mantova. Ho un incontro con gli industriali anche sulla Tireno-Brennero, che è un anello di congiunzione fondamentale per rimettere anche Cremona al centro. Nei prossimi giorni l'incontro al Ministero con il presidente degli industriali di Parma, Gabriele Buia, già presidente nazionale Ance, che sta concretizzando una strategia che mira a fare pressing sul governo e chiama a raccolta tutte le regioni attraversate dalla Tibre, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Liguria. Insieme, dice, occorre fare squadra per sottolineare quanto quest'opera sia strategica per tutto un sistema sociale, economico e produttivo. Il riavvio della Tibre potrebbe sbloccare il progetto dell'autostrada da Cremona-Mantova, la conferma dall'assessore regionale Terzi, oggi a Cremona, per un vertice con il Ministro Salvini, presente anche alla parlamentare Comaroli, il sindaco di Cremona Galimberti e il consigliere regionale Vitari. In realtà l'attenzione sulla Cremona-Mantova e sul Tibre, in quanto opera connessa evidentemente alla Cremona-Mantova, è sempre alta, soprattutto nell'interlocuzione tra regione, province, evidentemente, e ministero. Come sapete, Regione Lombardia sostiene questo progetto da sempre, convintamente, anche economicamente. Ci manca di chiudere quel passaggino relativamente, ovviamente, al soggetto proponente. Diciamo che ci sono un sacco di attività che stiamo facendo, magari non così visibili, ma anche perché evidentemente questo deriva dalla complessità della concessione. Il Ministero quindi sta lavorando sul completamento della Tibre? Questa è la richiesta che vi dico. Noi e, per esempio, Emilia-Romagna abbiamo messo nero su bianco qualche tempo fa, ribadito anche recentemente, e che verrà trasfusa poi in una sorta di protocollo proprio per dire, guardate, che è assolutamente fondamentale per entrambe le regioni. Elemento di novità rispetto a interlocuzioni passate, dove il parere dell'Emilia-Romagna non era così evidente.